ciao ragazzi come state come sempre io mi auguro che siate tutti molto bene io sono francesca lu con i miei gatti ecco lui è temistocle bene e sono qui pronta per realizzare un nuovo video allora siamo siamo tutti d'accordo che dobbiamo realizzare questo video tutto quanto dai allora realizzerò questo video in asmr a parte la prima parte in cui vi saluto e niente perché non l'apprezza può scorrere avanti e vedere la mia creazione ciao eccomi qua ragazzi dunque comincio questo video con l'asmr perché mi accorgo tutto il cuore che voi riusciate a rilassarvi allora non vi racconto tutte tutte le cose che mi sono successe in questo periodo perché alcune sono belle ma un paio molto spiacevoli e quindi non ve ne voglio parlare adesso e voglio solo farvi rilassare allora qui ho anche il dolcissimo temistocle che sta dormicchiando vicino al microfono dunque 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 piccolo lui allora alcuni di voi mi hanno chiesto di rifare gli asmr con i fazzoletti sulla bocca o con il volar dicevo fare gli asmr con una stoffa sulla bocca o con il volar o qualcosa di disibile allora io le pantane non le ho trovate le famose pantane che andavano una volta che comunque sono evergreen però ho trovato altri altri oggetti che comunque potrebbero andare bene e quindi cominciamo con questa scerpetta però mi sa che credo di averla già usata non ne sono sicura però allora se così fosse perdonatemi guardate quanto è carina è stata realizzata da una creativa e me l'ha regalata una mia cliente come sapete io sono una pittrice e realizzo dipinti su commissione ma non solo dipinti quelli appunto classici sulle tele ma anche dipinti su oggetti particolari come possono essere le borse o le t-shirt quindi in un certo senso è come se voi vi portaste dietro la mia arte allora guardate quant'è carina innanzitutto secondo me dona pure dona moltissimo perché sembra quasi di avere un collare elisabettiano dunque che cosa vi volevo raccontare vi volevo dire che sicuramente tutti voi avrete notato che adesso non voglio parlare del più del meno però una cosa che mi ha fatto sicuramente tanto tanto piacere è stato il fatto che le temperature si siano alzate questo perché? perché voi sapete che io tutte le mattine vado in colonia in colonia dai miei gatti e praticamente ci vado molto 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 presto andandoci presto ovviamente le temperature sono più basse, fa più freddo ora è pure vero che quest'anno a Roma l'inverno non c'è proprio mai stato in maniera così importante però comunque alle sei e mezza del mattino fa freddo anche se la stagione invernale non si è espressa proprio al meglio allora io che cosa ho fatto? ovviamente mi sono vestita in maniera molto molto calda però mi sono portata anche un oggetto questo qua guardate bene allora questo qui è uno scaldamani elettronico vedete c'è una apertura qui usb allora voi potete caricarlo in questo modo con la presa usb come se fosse un cellulare ed è una cosa molto carina questa perché se soffrite di freddo poi così si spegne se soffrite di freddo alle mani quindi alle estremità anche se siete ben protetti questo vi risolve veramente il problema guardate è una cosa eccezionale io l'anno scorso ho sentito molto più freddo il mattino perché in effetti è stato un inverno pesante ma quest'anno un po' di meno però grazie a lui al signor scaldamani io sono riuscita a fare tutte le mie cose senza problemi vi assicuro guardate non è una una promozione è una cosa fantastica che ho trovato su amazon il caro amazon che ha un po' tutto quindi se soffrite di freddo se soffrite di freddo alle estremità quindi sulle mani veramente fateci un pensiero perché è una cosa meravigliosa io l'ho preso di questo rosa che poi in realtà è una sorta di salmone color salmone ma c'è stato di tutti i colori c'è nero, bianco, grigio credo anche di altri colori e adesso oggi cercherò qualche altro oggetto affinché voi possiate rilassarvi volevo anche dirvi che non riesco a fare quella cosa che qualcuno di voi mi ha chiesto ossia mettere delle pallottole di carta in bocca e parlare con il sonno filtrato non ci riesco perché mi fa sentire male questa cosa scusatemi e quindi per ora se siete contenti comunque di quello che riesco a fare cercherò di fare questo smr filtrato con gli oggetti da appoggiare sulla bocca come appunto le sciarpette foulard stoffe e via dicendo guardate quanto è carina questa sciarpa secondo me è veramente bella l'amata amatissima lana sintetica per il niederfelding amatissima lana sintetica per il niederfelding voi ascoltate questo suono è veramente bello allora questa lana sintetica c'è un pezzetto di un altro colore forse mi era avanzato io la lavoro voi lo sapete con gli aghetti gli aghetti quelli scanalati adesso sta tutto il polviscolo dappertutto e e dunque però scusate io stavo parlando di un'altra cosa prima non pensavo di che io sia sconclusionata vabbè non puoi in parte può capitare che lo sia solo che mi vengono in mente un sacco di cose dunque dicevo che allora andiamo per ordine allora ragazzi passo direttamente a presentarvi la creazione ecco qua dunque ho preso questa bella borsa di stoffa che ha una parte in stoffa ovviamente quella principale e tutto il resto è fatto di pelle sintetica uso un pennarello indelebile nero e disegno sopra una sagoma di micio sicuramente avete già capito che è un gatto c'è il controllo qualità ovviamente di un altro gatto per ora la sagoma è solo un pochino diciamo è leggermente definita perché così diamo la l'ingombro sopra la borsa dunque ovviamente tra una stesura e l'altra cambio anche accessori ecco questi sono i miei pennarelli anzi sono i miei colori fabric paint che realizzano una texture molto più spessa infatti in questo modo la diciamo la geometria della borsa sotto scompare di modo da realizzare il disegno molto più evidente molto più visibile e anche più bello allora dicevo che tra una stesura e l'altra io asciugo con il phon perché in questo modo si accelerano molti tempi vi lascerò ovviamente nell'info box tutte quante le descrizioni dei miei prodotti dei prodotti che uso di cui usufruisco e sono veramente molto buoni ecco qui che tra ecco qui come vedete ho già asciugato la parte della sagoma nera e grazie a questa asciugatura posso ridefinire i contorni del amicio aggiungo della luce dei dettagli anche se pochi perché il disegno desidero che sia veramente molto molto minimale devi dare un'idea di estrema eleganza alla borsa più si asciuga il colore e più si definisce tutto quanto vedete che carino l'outline bianco aggiungo dei piccoli dettagli che fanno risultare il disegno anche un pochino più del dimensionale i baffi ovviamente le perisse veline e poi piano piano aggiungo altre cose che comunque su questa borsa stanno molto bene ecco qui un bel rosso intenso con il pennello vado di di colore e praticamente anche in questo caso c'è bisogno di più passaggi perché più passaggi si fanno più asciugatori si fanno più il colore diventa intenso e anche molto molto definito poi chiaramente questi sono gusti perché ci sono persone che amano che si veda molto la trasparenza sotto e chi non l'ama quindi è una cosa molto personale a me piaceva che i disegni si stagliassero molto di più sulla texture della borsa che tra l'altro è molto carina secondo me allora ecco qua come vedete è molto più intenso molto più definito il colore e adesso farò dei passaggi di fond che però credo che sul video non si vedano ecco e guardate che cosa realizzo praticamente questi cuori diventano delle rose con pochi tocchi di appennarello è tutto molto geometrico molto affinato mi auguro la stessa cosa la faccio anche con l'altro cuore ecco qui come vedete anche l'altro cuore diventa una rosa e sottolineo sempre di più questi outline di modo da realizzarli in maniera molto più definita c'è anche Kaori che dice la sua adesso allora ecco vedete qua come si definiscono io spero che voi vi stiate rilassando vedermi realizzare queste creazioni vedete come definendo ancora di più praticamente diventa tutto molto più bello almeno questo è quello che penso io uso anche gli uniposca che sono dei colori molto utili soprattutto perché hanno tantissime punte diverse che sono a punta fine credo sia un 08 poi comunque ve lo descrivo e la mia firma al lato del micio così diventa meno visibile è come se fosse praticamente un punto luce continuo con le varie definizioni tutti i vari elementi accessori ecco un'inquadratura un po' veloce vedete che carina questa borsa che ha anche una sorta di giuffettino da una parte e c'è anche Yuka che controlla mi sembra giusto allora ragazzi io spero con tutto il cuore che vi sia piaciuto il mio video che vi sia piaciuta la mia creazione che vi sia piaciuta io e sono contenta anche di essere tornata dopo tanto tempo mi raccomando iscrivetevi al canale e grazie di tutto ciao da Francesca Lu ciao ciao